Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale è quasi l'una e venti, noi cominciamo subito dall'Ucraina, sono tra i 10 e i 13 mila gli ucraini morti in guerra, l'ho detto stasera il consigliere presidenziale Podoliak rispondendo a Ursula von der Leyen che aveva parlato di 100 mila morti in battaglia. Oggi poi si è fatto sentire in maniera anche rude il ministro degli esteri russo Lavrov, attaccato tutti dal Papa alla Nato, ha detto che però una possibilità di trattativa ci sarebbe, ha indicato anche la persona con la quale vorrebbe trattare, cioè John Kerry, l'inviato speciale per l'ambiente degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti da Biden c'era Macron, i due hanno parlato di molte cose, ovviamente del sostegno all'Ucraina che continuerà, se ne parlerà anche in una conferenza internazionale che si terrà a Parigi il 13 di dicembre. Biden poi oggi ha chiuso la sua conferenza dicendo che sono anche disposto a parlare con Putin se lui è disposto a cessare questa guerra. Ma vediamo. Nessun soldato ucraino si sta addestrando sul suolo italiano. La smettita arriva dal nostro Ministero della Difesa. A lanciare questa accusa rivolta anche al Regno Unito e Germania è stato Sergei Lavrov, ministro degli esseri russo. La Nato e l'America sono in guerra contro la Russia, dice Lavrov. E questo aumenta il rischio di uno scontro nucleare, comunque da evitare. Noi, prosegue Lavrov, non chiediamo colloqui fittizi giusto per prendere tempo e riarmarci. Noi da sempre. Diciamo di essere pronti ad ascoltare chiunque sia realmente interessato ad una soluzione negoziata. Secondo Lavrov, un nome papabile per una possibile trattativa è quello del democratico americano John Kerry, attualmente inviato della Casa Bianca per le questioni ambientali, che conosce molto bene Lavrov. La Russia potrebbe accettarlo come negoziatore. Lavrov lo descrive come persona da sempre sinceramente interessata ai risultati da ottenere. Di sicuro un'apertura importante mentre svanisce. Invece il ruolo di mediatore avanzato dalla Santa Sede è oramai screditata agli occhi dei russi per le parole pronunciate da Bergoglio contro milizie filorusse, accusate dall'Occidente di massacri di civili ucraini. A Washington, intanto ricevuta da Joe Biden, Emmanuel Macron ha ripetuto che un tavolo negoziale con Putin è ancora possibile, con l'obiettivo di costruire una pace sostenibile. Ma, ha precisa il capo dell'Eliseo, l'alleanza occidentale non chiederà mai a Kiev un compromesso inaccettabile. Francia e Stati Uniti dunque sondano altre strade diplomatiche mentre annunciano che le forniture all'Ucraina comunque continueranno. Biden dal calto suo si è dichiarato disposto a parlare con Putin solo se vorrà seriamente mettere fine al conflitto. Confermata infine sempre da Washington una nuova conferenza internazionale che si svolgerà il 13 dicembre a Parigi per proseguire nel coordinamento dell'assistenza all'Ucraina sia finanziaria che militare. In serata il governo ha varato il decreto che proroga fino al dicembre del 2023 la fornitura di armi all'Ucraina. Un altro decreto metterà in amministrazione temporanea lo stabilimento della Lucoil che si trova ad Augusta in Sicilia salvandolo così e garantendo il posto di 10.000 persone. Così come annunciato il Consiglio dei Ministri in tarda serata ha varato il cosiddetto decreto NATO per prorogare fino al 31 dicembre 2023 e previo atto di indirizzo delle Camere il provvedimento già introdotto dopo l'inizio della guerra dal governo Draghi e che era in scadenza a fine 2022. Dunque tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 potrebbe arrivare il sesto decreto aiuti per mettere a disposizione di Kiev altri mezzi ed equipaggiamenti militari. Un provvedimento che assicura il Ministro della Difesa Crosetto passerà per il Parlamento. Inoltre il governo ha anche varato un decreto per la tutela dell'impianto Lucoil in Sicilia attraverso le procedure di amministrazione temporanea che potrà durare due anni. Varato anche un decreto per nuovi aiuti economici a Casamicciola e per la sospensione di pagamenti di tasse, imposte e versamenti contributivi fino al 30 giugno 2023. In arrivo anche una stretta sulle piattaforme online per contrastare le truffe, in particolare nel settore degli affitti brevi attraverso lo scambio di informazioni fiscali. Per ciò che riguarda il decreto NATO, l'approvazione da parte del governo è avvenuta nel clima positivo, agevolato dall'auduzione ieri alla Camera, delle emozioni presentate oltre che dalla maggioranza, anche da PD e Terzopolo e che nella sostanza tutte impegnavano il governo a continuare ad aiutare gli ucraini e nel loro sforzo bellico contro gli invasori russi. Respinta invece quella del Movimento 5 Stelle che chiedeva il passaggio parlamentare per ogni nuovo aiuto a Kiev e quella di Sinistra e Verdi che invece puntava allo stop dell'aiuto militare. L'obbligo vaccinale per una serie di categorie professionali e per gli over 50 è stata una scelta ragionevole e proporzionata. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha rigettato una serie di ricorsi. Oggi poi scatta il pagamento delle multe per coloro che hanno rifiutato il vaccino. Covid, la Corte Costituzionale salva l'obbligo di vaccino. Dopo una lunga Camera di Consiglio questa sera la consulta ha respinto i ricorsi presentati dai Novax e ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari in merito all'obbligo del vaccino introdotto lo scorso anno dal governo Draghi per alcune categorie professionali e per gli over 50. Le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario, scrivono i giudici in una nota, sono state ritenute non irragionevoli né sproporzionate. La sentenza ha dunque stabilito che era legittimo l'obbligo di vaccinazione per medici, infermieri, personale scolastico, forze dell'ordine e over 50 e al tempo stesso ha ribadito il no alla retribuzione per quanti erano stati sospesi dal servizio. Proprio oggi sono scattate le sanzioni previste per chi si è rifiutato di vaccinarsi. Le multe emanate sono in totale 1.900.000. Per ciascuna di queste è previsto un importo di 100 euro. Andiamo a Ischia, sono stati ritrovati tre dei quattro ancora dispersi. Manca appunto all'appello una persona in previsione di nuove perturbazioni. I residenti di circa 600 case ritenute a rischio sono stati fatti evacuare. Le ambulanze portano via i corpi delle vittime della frana di Casamicciola. Nelle prime ore della giornata vengono ritrovati tre dispersi, due uomini e una donna. Nel giardino di questa casa di Trapitata, in via Santa Barbara, i soccorritori con l'aiuto di Sparta, un'altra un cane molecolare al servizio della Guardia di Finanza, tirano su dal fango il corpo di Salvatore in pagliazza, il compagno della 31enne, prima vittima restituita dalla montagna killer. Poco più avanti c'è un'altra vittima, Gianluca Monti, 37 anni, padre dei tre bambini inghiottiti dal fango nella loro abitazione. Non passano due ore che viene rinvenuto anche il corpo della mamma dei piccoli, Valentina Castagna, in un borrone, dall'altra parte della strada dove era finito il marito. Nella dinamica risulta chiaro che la furia della lava di fango li ha trascinati a valle. Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine al lavoro tutto il giorno per liberare le strade dal fango, mentre proseguono le verifiche dei pompieri con un pool di geologi. 600 le abitazioni ritenute a rischio, più di 1000 quelle controllate. Si provvederà all'evacuazione temporanea in vista dell'allerta meteo che si annuncia per il weekend. Ad annunciarlo il prefetto Palomba in un vertice a Napoli in videoconferenza con il centro operativo comunale di Casamicciola. I sfollati saranno collocati in alberghi che hanno dato la loro disponibilità o in case private di propri familiari. Parla di situazione catastrofica il neocommissario all'emergenza Giovanni Legnini. Un impegno gravoso dice, ma bisogna concordare da subito le azioni necessarie e i primi provvedimenti. Non c'è tempo da perdere. Sono arrivate oggi le richieste di rinvio a giudizio per i 13 dirigenti ormai dimissionari della Juventus sulla vicenda. Poi, oltre alla giustizia sportiva, aperta un'inchiesta anche la UEFA. Anche la UEFA vuole vederci chiaro sul caso Juventus, aprendo un'indagine formale sui conti del club bianconero per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul far play finanziario dopo il procedimento della Consop e della Procura di Torino. Quest'ultimo ha chiesto di mandare a processo Andrea Agnelli e altri 12 manager l'intero CDA dimissionario della Juventus, esclusi invece tre membri del collegio sindacale. Le accuse vanno dalle false comunicazioni sociali per gli ultimi tre bilanci societari, ostacolo la vigilanza, aggiotaggio e false fatturazioni. Nel Merino le plusvalenze sui giocatori e le manovre e stipendi legate agli accordi tra società e calciatori per dilazionare le mensilità e falsare i bilanci. Nel fascicolo ci sono interrogatori di calciatori, procuratori, agenti e manager, verbali di perquisizione ma anche intercettazioni nelle quali si parla delle plusvalenze sulla compravendita dei giocatori. Nell'ottobre del 2021, quando la Consob stava già facendo le verifiche da tre mesi, i manager parlano al telefono, tanto la Consob la supercazzoliamo, dice Stefano Cerrato, il direttore finanziario della Juve ad un collega. La lente della procura e dell'organo di vigilanza si concentra però sulla manovra stipendi per l'anno del Covid e quello successivo. Nella sua delibera la Consob attesta la non conformità dei bilanci e definisce le manovre operazioni realizzate per restituire i soldi e per evitare il muro contro muro con i calciatori. Per i magistrati tutti sapevano, per Agnelli e altri due dirigenti, la procura aveva chiesto i domiciliari respinti dal GIP che non ha riconosciuto la possibile reiterazione del reato. E se ne è andata un'altra leggenda del ciclismo italiano, è morto a 89 anni a Forlì Ercole Baldini. Era stato oro olimpico a Melbourne nel 1956 e poi aveva vinto il Giro d'Italia nel 58 e il Mondiale di Reims nello stesso anno. Aveva anche vinto il record, aveva strappato il record dell'ora nel 56 ad anche Till. Nel 2016 Baldini, che era stato soprannominato il treno di Forlì, era entrato nella Hall of Fame del Giro d'Italia. E adesso diamo la parola a Fabrizio Galia per tutte le notizie sulla giornata dei mondiali. Buonasera. Buonasera Paola, ed è stata un'altra giornata di grandissimi risultati a sorpresa, ma neanche tanto, perché in effetti la Germania più o meno si capiva che non era la migliore degli ultimi anni. Ma non è neanche un caso, perché anche il Belgio è stato eliminato, quindi davvero il calcio europeo esce piuttosto male da questa prima fase del campionato del mondo. Iniziamo però, mi sembra giusto, da colei che ha arbitrato ed è entrata davvero nella leggenda, il match di oggi, quello fra appunto i tedeschi e la Costa Rica. Eccola qua, la vediamo con la sua terna arbitrale, la francese Stephanie Frassar, 38 anni. Da questa sera e nella storia dei mondiali, insieme alle due guardaline, parliamo della brasiliana Beck e della messicana Diaz Medina. Dopo la retina apertura di Gnabry, il match sembrava in discesa per i tedeschi, poi due gol subiti in soli 12 minuti. Dopo il colpo di testa di Teceda, un tappino vincente sotto misura, è stato addirittura il portiere della Germania, Neuer, a farsi autogol, portando quindi il punteggio sul 2-1 per i centroamericani. Germania è quindi fuori, non serviva una nulla nell'ultimo quarto d'ora, la doppietta di Havers ed il gol del 4-2 siglato da Fühlkrug. Quindi proprio come nel 2018 in Russia, la Germania deve fare le valigie al termine della fase eliminatoria. Anzi, Flick non si sente in discussione, non si è dimesso e quindi a questo punto è molto più di un campanello d'allarme per una delle grandissime potenze del calcio che, pensate, è arrivata terza in un girone da quattro con appena appunto quattro punti. Quindi davvero un bilancio molto molto in rosso. E ci sono state dall'altra parte del girone tantissime emozioni in contemporanea con Giappone-Spagna in classifica che è cambiata diverse volte durante l'incontro che ha avuto pure un notevole recupero. E quindi Spagna che è andata in vantaggio con una nostra vecchia conoscenza, Alvaro Morata, al suo terzo gol in questi mondiali. Poi però appunto travolta, ad inizio ripresa dai nipponici, a segno prima Dohan in rete anche contro la Germania qualche giorno fa e poi Tanaka, autore di un discusso gol qualificazione. Nel girone F invece c'è la clamorosa eliminazione del Belgio che ha chiuso a 0-0 la sfida con la Croazia. E c'erano due protagonisti, in positivo il portiere Courtois che ha momentaneamente salvato la sua porta in un paio d'occasioni. Negativissimo invece il comportamento di Lukaku che ha sbagliato tre facili palle-gol e il selezionatore Martinez del Belgio si è dimesso. E quindi in questo girone ad esultare è il Marocco, primo del gruppo grazie al 2-1 sul Canada. Subito in vantaggio con Ziyech, la squadra africana raggiunge quindi una sua vicina, il Senegal negli ottavi di finale. Per appunto c'è stato il raddoppio di Enesiri e per i bianco-rossi l'autogol di Aguer. Ottavi quindi, già ci sono gli accoppiamenti naturalmente, Croazia, Giappone e Marocco-Spagna. Vediamo quindi il programma che ci aspetta domani con gli ultimi quattro nomi che usciranno da queste sfide del gruppo H. Corea del Sud-Portogallo alle 16 insieme a Gano-Uruguay e poi per il gruppo G alle ore 20 Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera. Questa ultima partita è contemporanea ovviamente con il Brasile, Brasile che dovrà fare meno quasi sicuramente di Neymar, mentre si attende proprio l'ultimo momento per capire se riusciranno a recuperare gli infortunati juventini Alex Sandro e Danilo. Per il momento è tutto Paola. Grazie Fabrizio Calia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci fermiamo, l'informazione torna domani in mattina alle 7. Arrivederci, grazie e buonanotte.